Ciao ragazzi, questa è la nuova challenge, yoga challenge, la yoga challenge Ok, cominciamo subito, velocissimo, perché non abbiamo sentito tantissimo tempo Comunque, questa è l'immagine iniziale Questa Facilissima Mettila là Prima tu Prima sì, levati Ok Armatemi Dai Questo è? Non è che non mi è difficile Qua sì, è con la gamba aperta quella No? Sì, con la gamba aperta Cioè come, in che senso? È così Con questa è aperta Ma, no Sì È così Vabbè, ce l'ha fatta secondo te? Secondo voi Sì, dai Dai, la faccio io Oh, io ho fatto Mettilo lì Mettilo lì Ora io ho la stessa quella che ha fatto Non è che ci mettono lì Lei 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 De qua Ahia No, è qua Te la fai dentro domani mattina Ahia Vabbè, partiamo avanti Ahia Aspetta Ok Fatto Fatto Dammi questa Questa porca Facilissima questa Porca, dai Aspetta Non voglio Resto così Minchia Facilissima Si è fatta Aspetta Aspetta Rival Mi si mette la scuola Beh, è così Da Allora io Tocca a me Viego Così Alza la telecamera Fatto Alza la telecamera Dai Dai Veloce È caduta È così Che sta facendo Dai Prego 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 È caduta Comunque La terza Cosa È facilissima Fammi vedere Questa è facile Vai Dai faccio Questa è la prima Questa qua Su Come si mettono Anzi Eh Lo so Lo so Così Tipo Un Un Sì Sì L'ho fatto Ecco Ecco Perché La volevi Fare Perché Eri Bravittima No Vai Alza la telecamera Ah La faccio cadere La faccio cadere La faccio cadere L'altra È Molta Che facile No Minchia No Prima Dai 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 Questo Cazzo Ci vuole Come Fammi vedere Spu L'erba Ti ho creato E' Vado Questa E' Questa Mi ha fatto Così No Stai Rivelando Ti Mi fido Così Prova Così 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 No Asper Non è così poi non aspetta non è l'altra non è l'altra ah questo ci vede si ok porca ma questo è più facile così così sottotitolo basso un po così non mi fido a fare la yoga challenge e non mettete like se no la dobbiamo rifare l'opport un secondo ah è solto dai veloce veloce ok dai ultimissima velocissimissimissimissimissimissimamente questa la più difficile di tutte la più facile di tutte andiamo dai dai il tablet lo facciamo no no ma cazzo così 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 per niente levati oh sì ok sì diciamo sì dai levati levati dai dai ma c'è giù da mamma dai fatto l'ho fatta vabbè vabbè abbiamo un po' di urgenza spero che il video vi piacere mettete like commento iscrivetevi al cavale ciao ciao so che è tutta la porca si butta